Ti stai approcciando a Revit Map ma non sai da dove partire? In questo video tutorial ti mostro come utilizzare gli strumenti meccanici per posizionare correttamente le tue tubazioni di sistema. Ciao, sono Giata Capodilupo, architetto e docente titolare del centro di formazione Adararchitettura. Disegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Se non l'hai ancora fatto, rimetti un bel like a questo video ed iscriviti al mio canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Partiamo con una notizia. È iniziato il mese di novembre 2022. Questo che vuol dire, se già mi segui da un po' sai che a novembre c'è un evento fantastico che è l'evento del Black Friday. Una settimana spettacolare in cui tutti i nostri corsi del catalogo, quindi tutto il catalogo corsi, viene messo a disposizione praticamente di tutti a dei prezzi ridicoli. Quindi una settimana di estrema convenienza. In questo anno 2022, la settimana della Black Adara Week va dal 22 al 28 novembre. Ma devo proprio aspettare il 22 se sono già convinto all'acquisto di un corso? Assolutamente no! Infatti, solo per i nostri iscritti, solo quindi le persone iscritte alla nostra newsletter, è possibile accedere in maniera anticipata alle offerte direttamente dal nostro volantino. Eh ma io non sono iscritto alla newsletter! Come faccio ad accedere in anteprima alle offerte del Black Friday? Facilissimo! Clicca sul link qui sotto, compila il form con i tuoi dati per iscriverti alla nostra newsletter e ricevi via email il link segretissimo del nostro volantino, da cui puoi già consultare tutte le offerte relative al catalogo corsi 2022 con le varie azioni e le combo e perché no accedere sin da adesso a dei prezzi ultra vantaggiosi. Non ti far ingannare che è tutto il tempo del mondo perché in realtà il tempo passa molto molto velocemente, le offerte sono limitate e perciò ti consiglio di accedervi quanto prima e di assicurarti la migliore offerta per il corso che desideri seguire. Come ti ho promesso, in questo video ti voglio mostrare come modificare, come utilizzare i tool di RevitMap per posizionare correttamente una tubazione di sistema. È un passaggio semplice ma fondamentale per impostare in maniera corretta il tuo progetto e per poter posizionare tutti i tuoi componenti nella maniera più fluida possibile. Il processo di creazione di un sistema di tubazioni in RevitMap include tre passaggi principali, l'aggiunta dell'attrezzatura, la creazione del sistema logico e l'aggiunta di tubazioni per creare il sistema fisico. Ad esempio, per creare un sistema di tubazioni idronico, bisogna iniziare inserendo delle pompe di calore ad anello. Per seguire questa operazione bisogna selezionare appunto l'attrezzatura adeguata e poi andare a selezionare un tipico specifico tra di esse. Quando si posizionano questi elementi nel modello, è possibile ruotarli premendo anche la barra spaziatrice. Puoi posizionare adesso la caldaia del modello utilizzando lo stesso metodo di base usato per posizionare la pompa di calore. A questo punto puoi creare il sistema logico. Inizia selezionando una delle pompe di calore e specificando il tipo di sistema. Per quanto riguarda l'attrezzatura, invece, seleziona la caldaia. Infine, modifica il sistema per aggiungere la seconda pompa di calore. Una volta che hai creato il sistema logico, è possibile modificarlo aggiungendo o rimuovendo dei componenti. RevitMap consente di creare il sistema logico prima di determinare il layout del sistema fisico. Infine, fai clic sullo strumento Genera Layout per creare e instradare la tubazione che collega le pompe e la caldaia. Quando sono disponibili più soluzioni di layout, è possibile scorrerle utilizzando i controlli nella barra opzioni. Dopo aver completato il layout di base del sistema, è possibile modificare l'instradamento della tubazione in base alle proprie esigenze. Questo workflow di base per la creazione di un sistema di tubazioni può essere utilizzato anche per creare i sistemi d'aria meccanici. Se non hai idea di che cosa sia il BIM e di come si applica su un software come Revit, ma anche se già ne sai qualcosa e vuoi approfondire un po' più i concetti, vuoi avere un quadro generale di tutte le potenzialità, ho preparato per te un corso completamente gratuito. Sono nove lezioni, ti arrivano via email e puoi guardarle quando vuoi senza limiti. Per iscriverti al mio corso gratuito ti basta cliccare sul link che trovi qui sotto, ti si aprirà una pagina con un form, compilala con i tuoi dati, in particolare fai attenzione a scrivere correttamente la tua email perché è proprio via email che riceverai una volta al giorno per nove giorni le nove lezioni del mio corso completamente gratuito. Vedo l'ora di vederti dall'altra parte del corso perché una volta che si inizia con il BIM ci si morde le mani fino ai gomiti perché dici ma perché cavolo non ho iniziato prima e non ho abbandonato il CAD prima visto quanto ti migliora la vita da progettista. Perciò ti aspetto all'interno del corso gratuito e noi ci vediamo alla prima lezione. Ciao!